Assessore Di Matteo, questa mattina è stato presentato questo film Italo-Iraniano girato a Pescara che parla di una storia importante di questa ragazza bambina che è venuta in Italia dall'Iran a operarsi. È una cosa bellissima che lega all'interno di una potenzialità di interscambio tra l'Italia e l'Iran un ruolo strategico dell'Abruzzo perché viene fatto qui, viene proiettato qui questo film e in Abruzzo si creano le condizioni perché si possono determinare anche sulla sanità delle accoglienze importanti per chi ha necessità di carattere sanitario proveniente da stati dove probabilmente ci sono impedimenti a realizzare interventi complicati. L'Abruzzo si rende disponibile a fare questo lavoro, lo farà anche per altre esigenze che si sono presentate per il Venezuela negli ultimi giorni grazie al nostro SS Venezuela che abbiamo messo come cram e così come l'Abruzzo intensificherà questo ruolo di collaborazione con l'Iran che è uno Stato che nell'ultimo periodo ha aperto molto all'interscambio internazionale per far sì che non perdiamo questa condizione e occasione di far crescere anche tramite l'Iran una serie di opportunità che l'Abruzzo può sviluppare.